proviamo bravissimo arrivo non accadono di cecchino ragazzi beh sentiamo da vicino quando è il momento ragazzi e ora fa finder una cosa torna rega ragazzi l'ho sciutato ora mamma mia andata andata andiamo matti vieni in casa da me da me da me dovete solo scappare è una parola dobbiamo entrare qua dentro e andare in amico c'è un medikit vieni martin devi curarti tu si si mi cura mi cura dove è Watson quando serve arrivano arrivo 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 sopra eh tutti i skipper bravi porti dai sono rotta il c***o che ho fatto più raga due punti ma si può per due c***o i punti ma va lol dai raga due punti per il diamond ma che vuoi la voce tieni che c'è un cao livello 4 qui c'è un cao eh eh cosa non ho capito bene livello 3 prima vittima dopo ho buttato le voto come se sono scontato che volessi io però ok ho buttato perché mi sto sul c***o ma che c***o vabbè anche vicino avete la chiave eh si io tieni martin a tenere tu no non ho spazio vabbè io l'ho il design colto ma che c***o andiamo a reggiz che c'è sta castello eh castello castello di sabbia ragazzi interessante si 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 allora se troviamo una carabina prendo io il castello eh no e butto l'erro è 99 vabbè presi hai il pompa tu si ah vero se dotele il pop up grazie il pop up pop up per leva 8 ragazzi eh eh di anita pischi per ragazzi apri il pan vai c'è una gold allora tutto quello che c'è a destra a sinistra e al centro è mio ho aperto una camera blindata non credo va bene ok bella barriera vaffo capimenti chi è tolgeometra una viola là ma por chi è il diere marti dai che cosa tu sei impazzito io non la lascerei mai vabbè siamo a 32 persone ancora non abbiamo fatto nessuna kill e ancora meno 30 eh beh anche perché sarebbe un problema scusami perché ma alza il c***o ma alza il c***o ma alza il c***o ma alza il c***o ma alza tutti questi bambinelli tutti ragazzi c'ho quattro granate madonna di dio è la 1 è blu mo lo hitchiamo quando entra raga io li pusherei sincera no è un altro team è un altro team pure martin ma dietro no eccola 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 lì lì sì traccato viola ok giochiamociola bene larga l'ala triple o 23 pescare c'è colpi pesanti no peccato c'è un portale comunque di wright aspetta ma raga sono blu questi eh eh sì ma proprio non se ci fatti il party questo è il problema no c'è un altro team c'è un altro team ok va bene vabbè sì vabbè ci sono due cappelle ragazzi raga però rompiamo le cose di watson granata rotto uno lo cidriola è rotto è rotto quello mattino e no calo l'altro amico andiamo no no c'è qualcuno ve lo assicuro cento per cento c'è un recente che prende il ballone traccato viola me non mi è entrato un colpo non posso spammare tutti i colpi ho il zaino leggendario arrivano la sif male ragazzo tipico sotto vai vai matti apro venite venite l'ho fatto corto che fammi venire prima andiamo curatevi ce l'ho dietro ce l'ho dietro parecchi dietro non cado uno vai sto intanto dietro 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 sto tranquillo curatevi curatevi shield non toccavatevi è rotto è rotto un organ vado sopra vado sopra traccato non cado bravissimo c'è sta gente sopra raga da me rotto raga scudo viola arriva livello 3 abbiamo un minuto fattolo tu per il tp serve per il tp esatto ce l'hai ce l'hai si si tieni tieni ma me ne passa uno vai prendi questo me lo faccio io ho l'ultimo sono entrati noccata vai 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 prendete tutto tolto 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 godo 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 te l'hai fatta martin 30 secondi non ho fatto il portale faccio il mio faccio il mio venite qua vai 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 arrivo allora sotto c'è qualcuno lì è nella zona del ca dritti 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 ragazzi siamo messi benissimo comunque non per dire dici che entrano secondo me si hanno fatto il portale della brett lì ok io sono montato la rabbina ora ragazzi siamo in tre ragazzi siamo in tre vedete voi da dietro è da solo regà no è in due in due caccato caccato cibi distrutto è rosso ricarico raga chiudiamoli che posso entrare solo alla 12 anch'io quanto vorrei quanto vorrei 120 metri se riesce col tp 120 metri da qua da qua sì 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 100 100 ok vado sto sistemando un portale ti posso rimettere andi qua ok ok venite sempre perfetti tutto nostro raga tutto nostro mettiamoci Nike però ovvio ovvio come on guys semi ho sentito dei passi ti qua ti qua l'ho preso gg raga comunque raga più 69 diamond sicuro gg marty diamond sicuro si vuola raga io se riesco raga ok forse lì guardate c'è una sigla di watson rossa quindi c'è per forza di qualcuno aspetta aspetta e sono sicuramente vicini safe sono lì sono lì dietro 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 bravissimo bravissimo prende 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 vuoto vuoto con murri sopra sopra c'è uno 19 15 rotto uno è chiuso raga una nate lì non ne ho uccisione confermata si stanno facendo come dei cagnolini si fatti fare belle queste partite intense mamma mia si vede che ma chi stanno sparando eh ma quelli scusami un attimo quelli non sono in safe quelli non sono quelli non sono in safe sono closed poi abbiamo lì sopra mi ha detto sta a file ward sta a fare il portale a giro giro dotto qui sotto contatto non cadiamo raga no 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 strutta mi sono tutta raga è morta quelli sotto raga sono usciti pure gli altri e vanno a porta a lato e ora la sento tutti per tutti eh si ok stanno qui stanno qui stanno qui sotto no c'è un problema viola è il devotion attenti rotto 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 no cado bravo avete una nade qualcosa no raga un minuto eh pronti magari quindi che dobbiamo fare dobbiamo scendere di pompa a manetta eh si si per forza io smocco sotto quindi non c'è capito ne tiro una lì e una qui 45 secondi ah mi è una cata ancora una cata mi si fa ci deve essere un singolo comunque si 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 30 secondi è rotto rotto è rotto rotto esimo pronti pronti ma con me mi hanno preso guarda di fast la restata il mio è noccato va bene va bene 5 secondi ah no no è ancora è ancora è roccato raga avete colpi leggeri tieni marty prendi lì tieni è uscito è rotto è rotto 19 vai vai raga sono tutti due one shot tutti due one shot eh ragazzi aspettate aspettate era pure il king delle uccisioni un attimo un attimo ma peccato peccato ma era l'ultimo si ma non c'è avevo distrutto pathfinder vabbè raga dai gg secondo posto quindi si 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 secondo posto abbiamo i nostri ragazzi prova del nove prova del nove prova del nove e non parte ah gg gg ragazzi gg in cinque giorni ci siamo arrivati la sfida era quella di arrivare a Taiwan entro domenica e ce l'abbiamo fatta di la sfida di 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 Grazie a tutti